Sono Erika Bergamo, presidente dell'associazione Ama Mestre. Volevo invitare tutti i cittadini e nonno a contribuire alla nostra iniziativa un Guinness per Mestre, un lucchetto per la tua città, donando un lucchetto con un messaggio d'amore, portandola alla pizzeria Garibaldi tutti i giorni, in modo da consentire di creare una lunga catena che manifesti il nostro amore per la nostra città. I messaggi verranno raccolti in un libro dopo la manifestazione e cura di Silvia Moscato. E questa manifestazione è semplicemente un segno della nostra affezione verso il nostro territorio. Grazie.